Sono Matteo Bano, responsabile melone e anguria per NUNEMS Italia e oggi mi trovo su una melonaia di TIRSEN a pochi passi dalla stupenda Matera. TIRSEN è la varietà per i produttori che vogliono fornire un melone di alta qualità grazie alla sua pianta rustica dotata di un apparato radicale forte e solido. TIRSEN garantisce qualità e brix anche nelle condizioni estive di forte stress ed alte temperature. La pianta dotata di resistenza elevata all'uidio è molto produttiva e va gestita annullando o abbassando molto gli apporti azotati. L'altro vantaggio della vigoria di TIRSEN è che non necessita di copertura con TNT, anzi si avvantaggia allegando precocemente i frutti e bilanciando così la fase vegetativa con quella generativa. Il frutto è caratterizzato da un'elevata qualità organolettica con aroma charentenne. Il picciolo è grosso ed è sinonimo di un frutto buono dall'alto grado zuccherino che la pianta sostiene fino alla sua completa maturazione. Il punto di raccolta ottimale è a frutto che vira leggermente a giallo e che inizia a segnare leggermente il pizzuolo.